Ciao a tutti e benvenuti tifosi nero azzurri e tifosi rosa nero in un nuovo video dell'interista palermitano. Oggi siamo qui per fare il punto della situazione sul mercato del Palermo. Il Palermo ha fatto due colpi importanti in questi giorni, ha preso Nicola Sass in prestito con diritto di riscatto e ha preso Brignoli a titolo definitivo, quindi lo ha acquistato. Brignoli che la scorsa stagione ha giocato nel Benevento come secondo portiere, ma era in prestito dalla Juve, quindi il Palermo lo ha acquistato dalla Juve. Secondo portiere famosissimo soprattutto ai tifosi milanissi che lo ricorderanno per quelle due a due di testa allo scadere proprio all'esordio in panchina di Gattuso. Quindi un ottimo acquisto, secondo me sarà lui il portiere titolare perché Posavec, a mio modo di vedere, non è un portiere all'altezza perché come fa a grandi parate, è anche vero che fa tante minchiate e tanti punti la scorsa stagione ce li ha fatti perdere Posavec, quindi io non so a questo punto se Posavec rimarrà o verrà ceduto per prendere un buon secondo portiere perché secondo me sarebbe la situazione migliore. Tenere Brignoli in panchina per quello che ha fatto l'anno scorso col Benevento sarebbe un peccato, è vero che era il secondo portiere, ma era il secondo portiere soltanto perché secondo clausola se lui superava un tot di presenze il Benevento era costretto a riscattarlo e siccome il Benevento non avrebbe potuto riscattarlo, giustamente lo ha fatto giocare col contagocce per non superare le presenze della clausola. Per quanto riguarda Ass, l'anno scorso pure lui ha giocato in Serie A, ha fatto un buon campionato quindi è un giocatore, è un centrocampista che recupera palla e sa anche intercedere quindi fa da cerniera dalla difesa all'attacco, ha un buon piede, tecnicamente è un ottimo giocatore quindi veramente sono soddisfatto di questi due acquisti da parte del Palermo che al mio modo di vedere con Ass e con Prignoli si è rinforzato, ovviamente ci saranno delle uscite soprattutto se, ma secondo me non arriverà la Serie A, se Zamparini, se il Palermo perderà anche il ricorso perché il ricorso è andato male perché il Parma è stato tenuto in Serie A con 5 punti di penalizzazione quindi si pensava che magari il Parma potesse essere retrocesso e al posto del Parma salire il Palermo in realtà non sarà così, io penso che la squadra che merita la Serie B per comportamento antisportivo non ce l'ho con i tifosi, ce l'ho con la società e con la squadra ha avuto in finale playoff, io manderei in Serie B il Frosinone per come si sono comportati i giocatori del Frosinone sia titolari che panchinari ma soprattutto i panchinari e invece con una multa se ne sono usciti quindi tanto valeva la Juventus che è contro il Real Madrid, gli ultimi minuti dalle panchine cominciavano a tirare i palloni in campo, fermavano le azioni che sicuramente non si sarebbe creato il problema del rigore sì e il rigore no al novantesimo scaduto buttavano i palloni in campo, si prendevano il verbale e intanto eliminavano il Real Madrid siccome è un comportamento antisportivo e ha proibito una squadra di salire in Serie A la squadra che meriterebbe la squalifica vera e propria sarebbe più che altro dal mio punto di vista il Frosinone ovviamente se il Palermo non dovesse salire in Serie A e secondo me non sale perché perderà anche il ricorso se ne andrà Nestorowski, al quel punto ci sarà da prendere una punta vera quindi stiamo a vedere, intanto vi volevo dare l'informazione e la notizia di questi due acquisti che secondo me sono ottimi, il Palermo con questi due acquisti si è rinforzato c'è Rispoli che spinge per andare via quindi stiamo a vedere cosa succede, intanto gli acquisti che sono arrivati sono ottimi quindi con questo non ho altro da aggiungere sul mercato del Palermo se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale Interista Palermoitano e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo al prossimo video